La molecula subietta è derivata dalla potenza assoluta di 10 riservi a 100. 10 riservi a 100 è diviso da 10 riservi a 71, cioè la quantità delle molecole. In realtà il potenza 10 riservi a 71 è formato da 10 riservi a 50 x 10 riservi a 20 x 10, che sono la metà immaginari 10 riservi a 50, la metà di 10 riservi a 100, solo la parte immaginari, mixata da 1 m2, come 10 riservi a 20 angstrom2, della parte immaginari 10 riservi a 100. E un ciclo atomico, 10 angstrom2, come la metà immaginari 10 riservi a 100. Dividito in maggiore, ottenuti 10 riservi a 29 come volume. Questo volume, 10 risultato a 29, è 10 risultato a 6 nell'area e 10 risultato a 23 nella linea del flusso. Tutti sono rappresentati in modo stesso modo come il potere sulla base 10, ma l'area e la linea sono in opposizione, quindi 10 risultato a 6 entra in opposizione al potere, ha il suo logaritmo decimale e diventa 6. Questo sono i numeri Amodeo. 6 x 10 risultato a 23 è la quantità di ogni mole. Ora possiamo vedere l'unità assoluta, 10 risultato a 100, nel numero Amodeo. Non possiamo cambiare gli Avogadros. Quindi questo 6 è quello di Amodeo. Ora questo numero ha avuto un capire completo. è la reazione reale a 10 risultato a 6, questo è il volume complesso. E è il log di 10 risultato a 6, e la reazione reale a 6, e sono la 6 del luogo negativo positivo che hanno 3 dimensioni. Della unità assoluta, 10 accettato a 100, possiamo anche avere l'unità atomica. 10 accettato a 100 è diviso da 10 accettato a 56. Cioè, 10 accettato a 2 ha tutta la massima materiale direttata in tutte le 6 direzioni del numero Amodeus, e queste sono unità assolutamente in kg. Della divisione di 10 accettato a 100, accettato a 10 accettato a 56, rappresentata da kg, abbiamo il risultato di 10 accettato a 44 kg. Questa quantità è un volume, rappresentata da 10 accettato a 70 come area, e 10 accettato a 28 ha la lunga in cui sono in action kg di massima. in reazione a 10 accettato a 16, perché abbiamo in opposizione un'area e una lunga, e quindi dobbiamo vedere il potere di 10 accettato a 70 in una altra forma, non in la stessa forma di un potere di 10, ma nella sua opposizione, che è fatto dal logaritmo, abbiamo 670 e una quantità di 70 accettato a 10 accettato a minus 28 kg. Questa è la quantità di un'unità di massima atomica derivata da un'unità di 100 accettato a 100. Questa quantità di assoluta è diventata da 10 accettato a 64, cioè la quantità di un'unità di massima atomica. quindi rimane 10 accettato a 36, e in questo abbiamo il fronte 10 accettato a 70, che è diventata da un'unità di massima atomica. Un'unità deve essere presentata in opposizione, e quindi da un'unità di massima atomica e quindi da 10 accettato a 70, il suo logaritmo lo rende 70 x 10 accettato a minus 20 e da ogni più caduta a minus 30. E quindi da un'unità di massima atomica, il suo logaritmo, il suo logaritmo di massima atomica, quindi da un'unità di massima atomica, e quindi da un'unità di massima atomica, 296, multipliato da 10 elevato a 3 come spazio, multipliato da 10 come mole, e la reazione trasforma 10 elevato a 96 in 96, e abbiamo la quantità di mole, la stanza del gas, da 10 elevato a 100, il conto è espressato, e abbiamo finalmente 8 joule seconda quadra, ogni mole e ogni gradino di K. 12. 10 elevato a 100 C'è qualche unità di rozziato dai quanti uniti di 10 elevato a 100, l'anno, l'haio, l'hanno, ogni unità.